Un matrimonio con 65 invitati negli Stati Uniti si è trasformato in un focolaio di coronavirus, provocando 177 contagi e 7 morti. Il tracciamento dei contatti ha permesso di risalire alla catena di contagi che sono arrivati fino a centinaia di chilometri da Millinocket, poco più di 4.000 abitanti nel Maine, dove è avvenuto il fatto. Le nozze sono state celebrate in questa chiesa, il ricevimento al Big Moose. Al matrimonio il 7 agosto hanno partecipato 65 persone, contravvenendo fra l'altro al limite ufficiale per gli eventi che è di 50. Immediatamente dopo le nozze, 24 persone sono risultate positive al coronavirus. Fra di loro una guardia carceraria che ha diffuso il contagio in una prigione, ben 80 casi, a 370 chilometri da lì. Altri 39 casi sono stati rilevati in una casa di riposo a quasi 200 chilometri. Qui sono morte 6 delle 7 vittime, nessuna di loro aveva partecipato direttamente al matrimonio.